Lo hanno sorpreso per strada nel centro cittadino di Zabruhen, in Germania. Guidava un'autovettura con targa tedesca. E finita lì, nel gelo del Zalenda, la latitanza di Emanuele Cosentino, 32 anni, originario di Palmi e ritenuto elemento di spicco della Cosca Gallico, drinattiva non solo nell'area tirrenica della provincia di Reggio Calabria, ma anche in ambito internazionale. Cosentino era in compagnia della moglie, Laura Nasso, che di recente lo aveva raggiunto lasciando la Calabria, dove viveva con i cinque figli, uno dei quali nato durante la latitanza del padre. L'uomo non ha opposto resistenza e si è fatto ammanettare dai carabinieri sulle sue tracce ormai da dieci mesi. Sia lui che la moglie avevano documenti di identità falsi. Latitante dall'ottobre del 2013, Cosentino era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nel giugno 2017 per i reati di associazione mafiosa e distorsione aggravata, per i quali aveva rimediato una condanna in secondo grado ad oltre sette anni di reclusione. Una famiglia molto provata da faida inchiesta è quella di Gallico che per ora torna di stretta attualità e di queste ore infatti la notizia che l'autorizzazione concessa al boss Domenico Gallico, che sconta il 41 bis Setter Gastoli e che pochi anni fa aggredì il PM Giovanni Musarò fratturandogli il setto nasale, potrebbe essere revocata. Il 17 febbraio infatti Domenico Gallico ha chiamato il fratello Carmelo e gli ha comunicato che a breve arriverà il permesso di non farsi trovare impreparati, chiedendo come si sta organizzando di non aspettare l'ultimo momento. Carmelo ha risposto che si sta preparando. Una conversazione che ha allarmato il procuratore vicario Gaetano Paci. La visita nella villa di Palmi, sebbene con piantonamento, potrebbe essere troppo rischiosa. Da qui l'invito alla revoca al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. Consolato Minniti per la CNews24 Grazie a tutti.